5.112 denunce di infortunio e 163 denunce di malattie professionali. Sono quelle arrivate all'Inail di Ferrara nel 2022, di cui il 45% è gestito da Epaca, la struttura di col diretti per i servizi alle persone. Tutti i lavoratori agricoli, ma anche i lavoratori di qualsiasi settore, che abbiano infortuni sul lavoro, possono rivolgersi ai nostri uffici per essere seguiti e tutelati nelle pratiche nei confronti dell'Istituto. L'infortunio è un danno alla salute avvenuto in occasione di lavoro per una causa violenta. Questi sono i tre elementi essenziali dell'infortunio. L'Inail indennizza all'assicurato, quindi al dipendente, al lavoratore autonomo, l'indennità di temporanea, quindi il periodo di assenza dal lavoro causato dall'infortunio, ma anche eventuali danni permanenti derivanti da questo evento dannoso. A differenza dell'infortunio sul lavoro, la malattia professionale, che è un'altra casistica di indennizzo tutelato dall'Inail, si caratterizza dal danno alla salute causato da un'attività ripetuta nel tempo. Quindi non c'è la causa violenta, ma c'è un lento e progressivo deterioramento, danneggiamento della salute causato appunto o dal lavoro o anche dall'ambiente in cui una persona lavora. Per sensibilizzare i lavoratori sul tema della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, durante l'anno vengono organizzate riunioni, dibattiti e iniziative per diffondere le buone pratiche tra i lavoratori. In primo piano anche tutte le informazioni sulle consulenze medico-legali qualificate. Le principali malattie professionali che possiamo rilevare riguardano o l'apparato muscolo-scheletrico, mi vengono in mente le ernie di scale piuttosto che gli epicondiliti, problemi alle spalle o alle mani, carpale. Tutto ciò deve essere comunque strettamente correlato all'attività lavorativa svolta nel tempo dalla persona. Però anche all'ambiente, i problemi di natura asmatica per esempio che possono derivare da sostanze chimiche inalate negli anni nell'attività lavorativa o alla pelle causate da esposizione ai raggi solari. Quindi ci sono molte patologie che possono rientrare nelle caratteristiche tutelate dall'INAIL. Anche in questo caso, quando viene riconosciuto il danno alla salute causato dal lavoro, l'INAIL dà indennizi economici alle persone in funzione dal danno riconosciuto.